C'è nessun altro! Io! Per darti le emozioni più forti, noi di Mediset Premium le proviamo di persona. Solo così puoi avere il meglio del cinema, del calcio o delle serie TV. E solo se ti abboni entro il 30 giugno per tutto il 2010 costa 19,90 euro al mese. Ora! O mai più! Incredibile! La Premium! Chiama all'199303404